Caffè Sauvage Corso Italia 1 Angolo Piazza Verga è il principale punto di ritrovo degli utenti di Palazzo di Giustizia di Catania. Caffè Sauvage, ristorazione, gelateria, pasticceria tradizionale e catering. Caffè Sauvage con i suoi ambienti eleganti è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sauvage, Corso Italia 1, Catania. Gavi Office in via Vincenzo Giuffrida 19 presso il Tribunale offre uffici arredati a tempo, in ambienti eleganti, pratici e funzionali. Inoltre reception, servizi di segreteria e domiciliazione on demand. Gavi Office, uffici part-time. Parafarmacia, natura e farma della dottoressa Laura Pirazzi. Il benessere e la bellezza incominciano dalla tua salute. Farmaci senza obbligo di ricetta, dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, make-up, igiene, prodotti per bambini, farmaci veterinari, parafarmacia, natura e farma. In via Vittorio Emanuele Orlando 24, angolo Piazza Verga. Crazy Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi. Moda i-tech per uomo, donna e bambino. Braille, Braille Tribe, Casio, Cronotec, Citizen, Fossil, Lorenz, Nike, Polar, Seiko, Sunto, Timex, Vari. Crazy Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Crazy Time, in corso delle province 35. Amadeus Immobiliare, in via Civele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presti Tribunale di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Dimensione ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, fornitura ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione ufficio vende Mont Blanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari, In Tempo, Giuffré, Moleschine, Quo Vadis. Dimensione ufficio, via Firenze, 8082, angolo Piazza Verga. Dimensione ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. Outlet Informatica è distributore di supporti di registrazione, prodotti per archiviazione, borse e custodie per CD e DVD, componenti per PC e memorie flash. Outlet Informatica, le migliori marche del settore. TDK, Sony, Verbatim. In via Firenze, 110-112. ACF Group, in via Firenze 102, è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fide e usioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, Polize, All Risk, aziende. Con Sirio Viaggi, in via Crispi 223, hai il mondo a portata di mano. Professionalità, cortesia e convenienza per ogni esigenza di viaggio e vacanza. Alla Sirio Viaggi, il tuo visto turistico, le agevolazioni nei pagamenti e fino al 24 novembre il pacchetto Volo più Hotel, per qualsiasi destinazione e con lo sconto del 5%. Sirio Viaggi, il mondo a portata di mano. Spazio Estetica, in via Vincenzo Giuffrida numero 5, zona tribunale di Catania, lo specialista di fotoepilazione e di estetica risolutiva, lancia la promozione di quattro sedute di luce pulsata a soli 99 euro invece di 140. Spazio Estetica offre anche servizi personalizzati per le tue rughe e i chili di troppo. Con Spazio Estetica puoi dire addio ai peli superflui. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino. Via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. Via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. Buonasera, benvenuto all'Avvocato Sergio Chiarenza, all'amico Sergio, anche lui mio ospite a Piazza Verga. Innanzitutto ti posso offrire qualcosa? Grazie. Allora, prego, si accomodi. Sì, grazie. Sergio, diciamo che siamo guetani, io sono più vecchio, lasciamo perdere, sono dettagli. Da quanto tempo che fai l'Avvocato? Io faccio l'Avvocato dal 1982. Quindi da oltre 30 anni. Da 30 anni sicuro. L'inizio sai che non è… Possiamo dire chi è stato e chi è tuttora il tuo maestro, no? Certo, l'Avvocato Miano. L'Avvocato Salvatore Miano. Salvatore Miano, certo. E tu fai solo penale? Esclusivamente. Esclusivamente penale. St'amore del penale come ne esce? È nato subito, perché io da piccolo, diciamo che volevo fare l'Avvocato. Io, anche se in famiglia c'era soltanto mio zio che era Avvocato, adesso non c'è più, è scomparso da poco. Io ho sempre amato il penale, ma da subito. Per me l'Avvocato era solo l'Avvocato penalista. Non esiste per me una figura diversa. Un giorno ti racconterò la mia storia, ma non sono io l'ospite stasera. E quindi avete sempre avuto il problema dell'innocente, dell'errore giudiziaro in Aguato. Sempre, sempre. Come l'hai vissuta questa esperienza all'inizio? Come tutti i giovani, in maniera di curiosità all'inizio, molta curiosità, via via col passare del tempo e degli anni. E' chiaro che poi ognuno di noi si crea un convincimento, al di là di quello che è il processo. Perché tu sei benissimo, una cosa è il processo e le carte processuali, una cosa è il tuo convincimento. E poi è diventato mestiere, chiaramente. Processi che ti hanno lasciato un amaro in bocca, che ti hanno colpito. Penso che anche per te è la stessa cosa. Sì, è una domanda banale in effetti, ma la gente forse non lo sa. È una cosa normale che per noi, che ci buttiamo a capoflutto, e tu lo sai bene, che nel momento in cui tu abbracci il processo, lo vivi, lo sposi, cerchi di affrontarlo. Cosa prova un avvocato quando gli condannano un innocente, una persona che lui ritiene che sia innocente? Cosa prova? Sicuramente, per me, io parlo della mia esperienza, è sicuro di aver sbagliato in qualche cosa. Perché per me, non riuscire nel dimostrare l'innocenza del mio assistito, è pensare di aver sbagliato in qualche cosa. Non essere stato in grado di difendere veramente il proprio assistito. Questo rispecchia l'anima nobile che tu sei, certamente. La mia domanda era più secca, però, per far capire a chi ci ascolta l'emozione che può provare un avvocato. Un avvocato che ci crede nella sua professione. Sofferenza. Sofferenza piena. Tu ricordi benissimo, processi di una certa importanza, l'attesa dell'uscita del collegio che ti legge la sentenza. Per noi, lì, riusciamo a perdere anni della nostra vita. In quell'attimo. In quell'attimo. Io conosco avvocati che non hanno il coraggio di assistere alla lettura del dispositivo. E questa addirittura, ecco, si va al di là, si travalica. No, bisogna, dopo che tu hai fatto il tuo lavoro, ritieni di averlo fatto bene, devi essere lì a sentire quello che è il risultato del tuo lavoro. Bene, interrompiamo questi argomenti, se non sembra che stiamo facendo gli spot all'avvocatura in maniera incredibile. No, vabbè, ma è la vita di tutti i giorni per te. Quindi tu inizi negli anni Ottanta, te li fai tutti negli anni Ottanta, ovviamente, per arrivare adesso. Poi nell'89-90 cambia qualcosa nel codice di procedura penale. Si stravolge. Si stravolge. Ecco, spieghiamo cosa è successo, il legislatore voleva che accadesse, non è accaduto e cosa sta avvenendo adesso. Un cambiamento radicale, un cambiamento radicale che doveva apportare uno stravolgimento nel processo penale che senza dubbio, io torno a dire la mia opinione, era fatto proprio per aiutare e venire incontro a quelle che erano le esigenze del processo. Si disse non più maxiprocessi, non più ingiuste carcerazioni preventive, vero? Sì, sono state soltanto delle affermazioni labiali, scusa se lo dico perché sono rimaste così. Aspettative e basta. Meglio adesso o peggio? Tu puoi fare un raffronto, sottolino questo perché i giovani avvocati adesso conoscono solo il nuovo codice, quindi non possono fare un raffronto col vecchio. Quindi sicuramente poi tu hai messo da parte il vecchio, è vero che chi ha avuto a che fare prima e dopo può tirar fuori anche un certo giudizio e un mezzo. Può fare il paragone. Il paragone, però è anche vero che noi siamo tenuti a osseguare la legge, quella non c'è più, quella è cambiata, noi dobbiamo operare con quello che abbiamo e quello che il legislatore ci ha dato. Io questo paragone, diciamo prima meglio, dopo peggio, prima peggio… Un esame va fatto perché il nuovo codice è giovane, 24 anni per un codice è ancora piccolino, è giovanotto. Hai ragione, però secondo me dare un giudizio così lapidario, prima peggio o prima meglio e dopo peggio o viceversa, secondo me non è corretto. Non è giusto. Senti, sembra che lo faccio apposta, ma poi finisce che ne parlo sempre. Enzo Tortora, Enzo Tortora viene arrestato proprio, tu ti eri lavorato da un anno, viene arrestato nel 1983. Nell'84 inizia il processo, nell'85 viene condannato in primo grado a 10 anni di reclusione. Le date te le dico io, 85 viene condannato a 10 anni di reclusione, nell'86, l'anno dopo, autunno dell'86, viene assolto in corte d'appello e poi nell'87 ci fu la sentenza definitiva della Cassazione che confermò l'assoluzione. Quindi in 4 anni, carcelazione, primo grado, secondo grado Cassazione, 4 anni. Non sono tempi lunghissimi, rispetto ad oggi non sono tempi lunghissimi. Quanto ci vuole per fare un processo in primo grado, mediamente? Oggi purtroppo ormai i tempi si sono allungati in maniera impressionante e quindi questo non porta bene chiaramente al soggetto che deve subire. A fronte di un caso torto, che citiamo perché è un caso emblematico, ma era un maxiprocesso, erano mille ordini di cattura, all'epoca si chiamavano ordini di cattura, ora si chiamano ordinanze di custodia cautelare. Non c'è ipocrisia in questo cambiamento di terminologia? Ritorno a quello che ti ho detto prima, adesso si dice così, questo è quello che noi dobbiamo dire e quello che dobbiamo osservare. Va bene, ritorniamo a citare il caso torsolo, in 4 anni si chiuse il primo, il secondo e il terzo grado di giudizio. Poi per esempio abbiamo casi, tanto per citarne uno, Bruno Contrata, che ha atteso 15 anni. Se mi pare che te ne sei occupato tu. Io l'ho conosciuto Bruno Contrata che era già purtroppo condannato definitivamente. Sì, una parte finale. Una parte dopo il novantesimo. No, ma ti dico, questi tempi così lunghi, c'è qualcosa che non funziona? Ha funzionato per esempio? Il male della nostra giustizia. Non c'è più il giudice istruttore, che ne pensi di questa cosa? Sì, effettivamente questa figura del giudice istruttore secondo me si è sbagliato. Il giudice istruttore, a mio parere, ma... Lo spieghiamo alla grande... Molto sommetto. Alla massa, diciamo. Alla massa. A chi non è addetto ai lavori. Cioè una volta c'era questo giudice istruttore. Il giudice istruttore secondo me svolgeva un compito essenziale. Quindi una persona veniva arrestata, spieghiamolo proprio terra a terra. Una persona veniva arrestata e c'era un periodo in cui si dovevano fare delle indagini per avvalorare o meno l'accusa. Però era il giudice che seguiva e seguiva queste indagini che portavano... Quindi avevamo un difensore, il pubblico ministero e il giudice istruttore. Il giudice istruttore è stato cancellato. E' finita. Quindi in teoria chi lo dovrebbe fare il giudice istruttore? Perché il periodo istruttore c'è, si chiamano attività di indagini preliminari... Ma le attività di indagini che le fa il pubblico ministero. Quindi il PM... Il pubblico ministero tu sai benissimo che è l'accusa. Il PM parte arbitro contemporaneamente. Non può. E' una partita difficile quando c'è l'arbitro che gioca. Assai difficile rivestire i due ruoli contemporaneamente. E quindi questo è già un punto che stiamo segnando non molto a favore del nuovo codice. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Quando iniziai io, ma credo che anche quando c'eri tu nell'82, perché poi fu proprio col caso Tortora che viene introdotto, il Tribunale della Libertà. Una volta il Tribunale della Libertà non esisteva. No. Una volta il pubblico ministero poteva spiccare i mandati di cattura. Erano proprio questi i termini. Esatto. Veniva spiccato il mandato di cattura. Senza ipocrisia oggi viene emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Ok. A me pare, vorrei che tu mi correggessi, a me pare che però non essendoci questa parcellizzazione di responsabilità, perché oggi il PM richiede, il GIP dispone, poi c'è il vaglio del Tribunale del Riesame. Sì. Quindi c'è una parcellizzazione di responsabilità. che una volta non c'era. Una volta, guarda che brutta domanda che ti sto facendo Sergio, una volta, secondo te, il PM, il personale di Catania, di Roma, di Milano, il pubblico ministero, non ci pensava cento volte prima di spiccare un mandato di cattura? Allora. Ora, in giuste carcerazioni preventive ce n'è di meno. Forse hai ragione. Hai ragione proprio per questo fatto dell'introduzione di altri soggetti che devono bagliare sull'operato del pubblico ministero. Allora che cosa succede? Che il pubblico ministero cerca di essere veloce, e questo chiaramente già è una cosa negativa per uno che decide sulla libertà delle persone, e poi il termine non è esatto, ma in maniera sommaia dice c'è l'organo che può rivedere quello che ho fatto io. Ecco perché secondo me effettivamente si arriva purtroppo alla situazione attuale, negativa. Caffè Sauvage Corso Italia 1 Angolo Piazza Verga è il principale punto di ritrovo degli utenti di Palazzo di Giustizia di Catania. Caffè Sauvage, ristorazione, gelateria, pasticceria tradizionale e catering. Caffè Sauvage con i suoi ambienti eleganti è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sauvage, Corso Italia 1 Catania. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino. Via Firenze 98 nei pressi del Tribunale. Dimensione ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, fornitura ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione ufficio vende Mont Blanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari. In Tempo, Giuffre, Moleschine, Quovadis. Dimensione ufficio, via Firenze, 8082, angolo Piazza Verga. Dimensione ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. Gavi Office in via Vincenzo Giuffrida 19 presso il Tribunale. Offre uffici arredati a tempo, in ambienti eleganti, pratici e funzionali. Inoltre l'exception, servizi di segreteria e domiciliazione on demand. Gavi Office, uffici part-time. Outlet Informatica è distributore di supporti di registrazione, prodotti per archiviazione, borse e custodie per CD e DVD, componenti per PC e memorie flash. Outlet Informatica, le migliori marche del settore. TDK, Sony, Verbatim. In via Firenze, 110-112. Con Sirio Viaggi, in via Crispi 223, hai il mondo a portata di mano. Professionalità, cortesia e convenienza per ogni esigenza di viaggio e vacanza. Alla Sirio Viaggi, il tuo visto turistico, le agevolazioni nei pagamenti e fino al 24 novembre il pacchetto Volo più Hotel, per qualsiasi destinazione e con lo sconto del 5%. Sirio Viaggi, il mondo a portata di mano. Spazio Estetica, in via Vincenzo Giuffrida, numero 5, zona tribunale di Catania. Lo specialista di fotoepilazione e di estetica risolutiva. Lancia la promozione di quattro sedute di luce pulsata a soli 99 euro, invece di 140. Spazio Estetica offre anche servizi personalizzati per le tue rughe e i chili di troppo. Con Spazio Estetica puoi dire addio ai peli superflui. ACF Group, in via Firenze 102, è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fide e iussioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, Polize All Risk, aziende. Amadeus Immobiliare, in via Civele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, pressi Tribunale di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Crazy Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi, moda i-tech per uomo, donne e bambino, Braille, Braille Tribe, Casio, Cronotec, Citizen, Fossil, Lorenz, Nike, Polar, Seiko, Sunto, Timex, Vari. Crazy Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Crazy Time, in corso delle province 35. Parafarmacia, natura e farma della dottoressa Laura Pirazzi. Il benessere e la bellezza incominciano dalla tua salute. Farmaci senza obbligo di ricetta, dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, make-up, igiene, prodotti per bambini, farmaci veterinari. Parafarmacia, natura e farma. In via Vittorio Emanuele Orlando, 24, Angolo Piazzaverga. Tu lo sai, perché sei più preparato di me, che la Cassazione ha dovuto intervenire per censurare i jeep che facevano copia e incolla. Parlane, parlane. No, va bene, è una cosa ormai risaputa, questo purtroppo è come spiegarlo. Cioè il jeep copiava integralmente la richiesta di ordinanza di custodia cautelare che faceva il pubblico ministero, magari cambiava la stampante. E questo purtroppo non andava bene, non poteva andare bene, tra l'altro la Cassazione è intervenuta, ha detto che non si può fare, ma questa è una cosa troppo logica. Il jeep deve ragionare con la sua testa, il jeep deve argomentare con quello che ha a disposizione, certo, leggendo anche quelle che sono le argomentazioni del pubblico ministero, ma non può prendere e ritagliare parti di quello che ha scritto il pubblico ministero riportando nell'ordinanza. Nella fase dibattimentale è cambiato qualcosa? Nella fase dibattimentale si dice che la prova si deve formare al dibattimento, la prova si deve formare al dibattimento, si è stravolta questa situazione rispetto a prima. Ritengo che forse è un punto a favore da questo punto di vista, dovrebbe essere un punto a favore, però questo ti comporta l'allungamento del processo, perché mentre prima si raccoglieva tutto e veniva portato, adesso si deve formare la prova, si deve formare tutta il dibattimento. Io mi ricordo che per esempio veniva interrogato un maresciallo dei Carabinieri al dibattimento e al maresciallo il giudice chiedeva, maresciallo lei conferma il rapporto a sua firma? Ovviamente quello diceva sì, oggi questa non si può fare più questa domanda e dopo 4-5 anni da quelle che furono le indagini dovrebbe ricordare le cose che ha fatto. E siccome spesso non se le ricorda, gli danno la possibilità di rileggere quello che lui ha scritto 4-5 anni fa, quando va bene. Tutto questo avviene in maniera seria in un'aula di giustizia, ma non è una farsa. Io non voglio essere dei giudizi che possono essere così. No, noi stiamo criticando il legislatore, questo penso che ancora si può fare. Sai anche tu che spesso si dice il teatrino della giustizia, tu parli di farsa, io ti dico teatrino. Insomma se uno non si ricorda, però gli fanno leggere gli atti e quello li può ripetere, perché sono atti a sua firma, li può tenere in mano e rispondere alle domande, tanto valeva come faceva una volta, confermo il mio rapporto e poi c'erano 2-3 domande di chiarimento che facevano gli avvocati. Domande di chiarimento per verità, c'erano prima, ci sono adesso, l'approfondimento non… Stiamo criticando troppo, hai ragione tu. Dimmi una cosa, ora noi superati i 50 anni cominciamo a ragionare, io dico sempre si nasce ingegniari e si muore pompieri. Speriamo di morire pompieri oppure terroristi, non lo so. Lo siamo già pompieri. Che messaggio ti senti di rivolgere ai giovani che vogliono intraprendere la carriera di avvocato, di magistrato? Bisogna abbracciarlo innanzitutto non come vada a fare l'avvocato, vada a fare il magistrato. Non è uno sbocco occupazionale. Non può essere. Dico chiaramente perché… Non si può considerare uno sbocco perché… Perché ti dico questo, perché anni fa un figlio di un amico mio, un 19enne, lo incontrai con suo padre, sono scritto in legge, tutto contento, bravo, mi fa piacere. Sì sì, io voglio fare il pubblico mistero come Di Pietro. Non dissi nulla perché qualunque cosa avessi detto… In quel momento certo non… Però ci rimasti malissimo, ci rimasti malissimo perché pensai guarda che messaggio passa ai ragazzi. Sbagliato. 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 Scusa ti ho interrotto. Stavi dicendo qualcosa. Per carità, è questo. O lo affronti come veramente una professione seria, ma la devi amare perché altrimenti non… Non dico che deve essere il tuo scopo della tua vita, però per me è veramente… Io avrei fatto solo l'avvocato perché io veramente ci credo e le difficoltà che vengono poste dai processi, e li approfondisco, cerco, lo vivo. Non è il mestiere dell'avvocato di andare a fare la causa, mi faccio la causa, poi mi faccio dare l'onorario, va bene, così campo, eccetera, eccetera. Non è questo. I ragazzi devono capire che è veramente difficile… Possiamo usare un termine forte, è una missione. Sai, siccome lo dicono tutti, io questo termine non lo volevo dire perché parrebbe che uno si ripete o comunque prende delle frasi già dette, è una missione. Rispetto a 30 anni fa… Non è soltanto, scusami se ti interrompo, non è soltanto il medico che ha una missione. Certamente. Forse anche l'avvocato ha una missione. E l'avvocato si occupa di creatura umana. Sì, dico anche l'avvocato. Senti, rispetto a 30 anni fa, 30 anni fa tu frequentavi questa piazza… Che non è cambiato molto. No, come logistica, no. Il palazzo, insomma sì, non esisteva via Crisp, non esisteva tribuna di sorveglianza. Il palazzo, la piazza, sì. Sì, il palazzo è sempre quello. Ma infatti la domanda era un'altra. Nei corridoi, adesso, nelle aule, epidermicamente, con i colleghi e con i magistrati, rispetto ad allora, respiri la stessa aria o adesso è un'aria più pura oppure un'aria un po' meno pura. Ti posso dire subito che è un'aria più pesante. Più pesante. E non voglio scendere in particolare. Sì, ma noi infatti non parliamo di particolare. L'aria più pesante viene spiegato per… Con i colleghi come va? I colleghi ormai, purtroppo ahimè, il numero ti porta anche a avere anche una difficoltà di conoscenza, perché, sì, è vero, ci conosciamo tutti, ma è una frase fatta questa, ci conosciamo tutti. Ci conosciamo… Tre t'anni fa? Eh, adesso non è più possibile dire ci conosciamo tutti. Ma al di là di conoscersi o non conoscersi, certe regole comportamentali… C'è un leggero decadimento. Perché? Non lo so, io vedo che… Non lo so, io ho avuto altro maestro… Ti faccio una domanda. Un maestro che mi ha… Tu come chiami l'avvocato Miano? Allora, il termine nostro è mastro. Gli dai del lei? Sì, certo. Ma non esiste che tu ti rivolgi all'avvocato Miano? No, 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 no. Oggi penso che aveva 80 anni, no? Aveva 80 anni e li ha fatti… Dandogli del tuo e chiamandolo collega. Non esiste, non esiste. Questa fu una delle prime cose che mi insegnò mio padre, cioè non dare mai del tuo a un avvocato più anziano di te, deve essere lui più anziano a pregarti di dargli del tuo. E questo va bene, nel rapporto con i colleghi. Ma chi è uscito dal mio studio, perché già dei ragazzi sono usciti dal mio studio, mi chiamano o avvocato o maestro. Sono quelle piccole cose che secondo me… Non è questo che fa la professione. No, però segnano il cambiamento di un'epoca. Sicuramente. Perché poi tutto questo si riverbera nei rapporti formali, professionali che avvengono nelle aule. E nei corridoi, quelli che tu dici, nei corridoi della giustizia. E poi con i magistrati. E con i magistrati. Cos'è cambiato nel rapporto tra l'avvocato e il magistrato di 30 anni fa? Tu giovanissimo, ti ricordi il tuo maestro che parlava con i magistrati 30 anni fa e tu ora che parli con i magistrati 30 anni dopo. Guarda, io da parte mia, il mio rapporto non è mutato molto, perché per me c'è stato… Non parlo di te, nei tuoi confronti. Chiaro che il mutamento c'è, c'è stato, torno a ripeterti, io vedo purtroppo il termine declassamento si può dire una modifica in senso non positiva. Qua si può dire tutto il salotto della libertà. E lo so, dico, capisco che possiamo dire tutto, però io non mi voglio ergere a critico da questo punto di vista, sono un modesto operatore. No, critico no, ma se abbiamo, ripeto, data l'età, se abbiamo qualche suggerimento… La mia impressione è questa, che purtroppo… Cosa cambieresti? Ma sai, ci sono tante, come dicevi tu Poclanzi, tante piccole cose che andrebbero sicuramente cambiate. Certo nel momento non mi viene di dirte questo o quest'altro, però effettivamente qualcosa potremmo farla. Chiaro che ognuno di noi, tu sei impegnato con la tua professione, io sono impegnato con la mia professione, con lo studio, eccetera, eccetera, molto spesso ci vorrebbe un sacrificio maggiore da parte nostra per poter portare un contributo anche se minimo e poter cambiare questi rapporti. Però, scusami, è così, sembra che entro nel personale, in realtà no, perché sono un discorso di ordine generale. Noi confidenzialmente stiamo prendendo un caffè insieme con tanta affettuosità reciproca, ma se domani mattina, come capita, siamo avversari, non ci guardiamo in faccia, facciamo il nostro lavoro. Questo è un messaggio di professionalità che noi trasmettiamo. Ma deve essere così. Non faremo mai un inciuscio io e tu. Assolutissimamente no. Ma la gente questo deve capire, la gente non lo sa. Allora, guarda, questo purtroppo non è soltanto dovuto a noi, perché spesso noi sbagliamo sicuramente nel porgerci nei confronti di chi sta all'esterno. È anche un problema dovuto anche a quello che i giornali, quello che trasmette la televisione, anche gli stessi, è una cosa banale, i telefilm, fanno vedere l'avvocato come una figura non lineare, non cristallina, tutto sbagliato. È un messaggio che dai agli altri sbagliato. Quindi farebbe bene l'avvocato a girare nelle scuole come i magistrati, farebbe bene a frequentare gli studi televisivi come i magistrati. Sicuramente. Trent'anni fa, sempre quell'amico mio, diceva siamo tutti in libertà provvisoria. E enfatizzava in maniera molto negativa una data cosa. È cambiato qualcosa? In meglio o in peggio? Guarda, così, a buttarla giù sicuramente è cambiata in peggio, sicuramente, non in meglio. C'è anche il cambiamento dei tempi. Quindi è legittima la sfiducia del cittadino? Perché si vive questo clima di sfiducia totale. Il cittadino che vive all'esterno e che non conosce il mondo giudiziario sicuramente per adesso, oggi come oggi, ha sfiducia. E come ha sfiducia nei nostri confronti, ha sfiducia poi anche genericamente nei confronti della giustizia in generale. Ha sfiducia anche nei magistrati, non soltanto nei nostri confronti. Secondo te i magistrati, che poi sono i nostri cugini perché hanno la nostra stessa laurea, hanno la laurea in giurisprudenza, ancora oggi non è che hanno cambiato… hanno la stessa laurea, poi vanno a svolgere un'altra funzione. diversa rispetto a noi. Noi, tutto sommato, credo che continuiamo, il più continuano a frequentare uno studio, andare dietro un avvocato anziano e piano piano imparano il mestiere, la professione. I magistrati invece sappiamo che con la laurea accedono a un concorso pubblico, se vengono il concorso, hanno i poteri che tutti sappiamo. Cambiereste qualcosa in questo… In questo tutto. Io sarei dell'idea di far fare proprio pratica vera e propria, quello che loro chiamano l'uditorato che è un… Ma l'uditorato lo fanno dopo che hanno vinto il concorso? Sì. Loro ritengono che l'uditorato basti, secondo me no, occorrerebbe invertire, prima avere un percorso di formazione, in tal senso, per i magistrati, così come avviene per noi. C'è speranza che prossimamente le cose cambiano? C'è speranza, c'è sempre. Altrimenti potremmo chiudere tutto, anche oggi che stiamo parlando così potremmo chiudere… Fortunatamente possiamo dire che l'avvocato soffre di questa malattia chiamata ottimismo inguaribile, nonostante tutto. Eh sì, e meno male. Sergio è stato un piacere averti con me, spero che mi torni a trovare. Con l'eropo, con l'eropo. Ti ricceria tradizionale e catering. Caffè Sauvage, con i suoi ambienti eleganti, è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sauvage, Corsa Italia 1, Catania. Cimex, Vari, Crazy Time, è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Crazy Time, in corso delle province, 35. Amadeus Immobiliare, in via Civele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presti Tribunale di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Outlet Informatica è distributore di supporti di registrazione, prodotti per archiviazione, borse e custodie per CD e DVD, componenti per PC e memoria flash. Outlet Informatica, le migliori marche del settore. TDK, Sony, Verbatim. In via Firenze, 110-112. Consiglio Viaggi, in via Crispi 223. Hai il mondo a portata di mano. Professionalità, cortesia e convenienza per ogni esigenza di viaggio e vacanza. Alla Sirio Viaggi, il tuo visto turistico, le agevolazioni nei pagamenti e fino al 24 novembre il pacchetto Volo più Hotel, per qualsiasi destinazione e con lo sconto del 5%. Sirio Viaggi, il mondo a portata di mano. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino. Via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. Parafarmacia, natura e farma della dottoressa Laura Pirazzi. Il benessere e la bellezza incominciano dalla tua salute. Farmaci senza obbligo di ricetta, dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, make-up, igiene, prodotti per bambini, farmaci veterinari. Parafarmacia, natura e farma. In via Vittorio Emanuele Orlando, 24, Angolo Piazzaverga. ACF Group, in via Firenze 102, è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fide e iussioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, polize, all-risk, aziende. Spazio estetica, in via Vincenzo Giuffrida, numero 5, zona Tribunale di Catania, lo specialista di fotoepilazione e di estetica risolutiva. lancia la promozione di 4 sedute di luce pulsata a soli 99 euro, invece di 140. Spazio estetica offre anche servizi personalizzati per le tue rughe e i chili di troppo. Con Spazio estetica puoi dire addio ai peli superflui. Gavi Office, in via Vincenzo Giuffrida 19, presso il Tribunale, offre uffici arredati a tempo, in ambienti eleganti, pratici e funzionali. Inoltre, reception, servizi di segreteria e domiciliazione on demand. Gavi Office, uffici part-time. Dimensione Ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, fornitura ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione Ufficio, vende Mont Blanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari, in tempo, Giuffrè, Moleschine, Quo Vadis. Dimensione Ufficio, via Firenze, 8082, angolo Piazza Verga. Dimensione Ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. Dimensione Ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. Dimensione Ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. Grazie a tutti.